Poi ne parleremo ancora dopo il secondo appuntamento che mangeremo in onda tra poco. Allora, io e Emilio abbiamo pensato, prima parlavamo appunto di emittenti pirata e così, no? Abbiamo pensato di riportare, di farvi riascoltare una cassetta che è arrivata a Radio Europe tantissimi, ma tantissimi anni fa. E' stata la prima cassetta che Radio Europe ha ripetuto qua dall'Italia di Jolly Roger Ray, di una stazione irlandese. Quindi noi tra poco ve la manderemo in onda. E' stata proprio la prima cassetta. Siete anche un po' i disgiocchi, chi parlava, chi era. Vabbè, niente. E' una sorpresa. Ascoltatela, divertitevi e poi ovviamente ritorneremo a capirare ancora io e Emilio e, non so come per dire, ad agguzzarvi un po' la fantasia di quello che succedeva prima e a farvi ricordare un po' quello che nel passato, insomma, avete vissuto anche voi a S.W.L. che avete scritto ad altri video. S.W.L. che avete scritto ad altri video, ovviamente, direttamente da Power Jam in questo momento. Buon appetito. Grazie. 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 Grazie a tutti. In Italia, in Central Europe, on 7295 kHz. This is Johnny Roger Radio. Hello. What do you call people who hate children? Parents. Hello. Would you like to buy an encyclopedia to help your child get to college? He doesn't need it. He takes a bus. On shortwave all over Europe, this is Johnny Roger Radio. Next we're going to play another track from Emotional Fish, which is our featured album of Play. This time we're going to play track car in Virginia on Johnny Roger Radio. What does it feel you are? Because you're a single human to blast. Used to be young. Dreams of the end of the dark. It's pretty as needed. Thres. TREBOR member is tagyished with indian mercy, TREBOR promoter, Motivator TREBOR